Fino a ieri, fiore all'occhiello della marina militare tedesca, la nave scuola Goeck-Fock torna a casa a conclusione di quello che potrebbe essere il suo ultimo viaggio. Lo scorso agosto una cadetta di 25 anni è morta in circostanze misteriose e dal 19 novembre il programma di addestramento è stato sospeso. Sono seguite anche voci di un tentato ammutinamento a seguito delle enormi pressioni fisiche e mentali che i cadetti subirebbero nel corso dell'addestramento. Non vogliamo tenere qualche notizia segreta, vogliamo garantire trasparenza. La decisione di far riprendere il mare alla Goeck-Fock deve essere presa dai responsabili della marina. L'unica strada percorribile per la bella nave scuola per evitare la pensione è una riforma del programma di addestramento. Grazie.